Buongiorno! Derek, vieni, vieni, vieni a salutare! Se vedete questo video è perché ovviamente mi è tornato Interme. Devo dire che sono contenta, sono contenta di essere tornata perché adesso sono un po' più stabile, ho un po' più il mio mondo, la mia stanza, tutte queste cose qua, però dall'altra parte è logico, per chi mi segue su Instagram, vi lascio tutti i link di riferimento, sia nell'info box che in sovraimpressione, mi sono dovuta trasferire a casa mia con i miei perché qui a casa dei miei dovevamo fare dei lavori, solo camera mia è rimasta quella che è perché sinceramente, io l'ho detto ai miei, se putacaso mi dice fortuna, riesco a trovare lavoro, io me ne vado. Cosa che mi sembra alquanto impossibile, vabbè, cerchiamo di essere positivi, però io direi di iniziare questo Get to Lady perché sennò altrimenti io parlo, parlo, parlo e poi non mi si ferma più. Voglio iniziare con la mia base, al momento la mia crema preferita del momento è questa qui della Biofficina Toscana, ottima, adoro questa crema, l'adoro proprio. Fatemi dire, a proposito, altro prodotto che vi volevo parlare da un bel po' di tempo, per chi mi segue sempre, sa che io oramai ho un bel po' di tempo che utilizzo questo prodotto qui della Vichy, Vichy Mineral 89. Ho preso tutte le dovute informazioni e mi sono troppo incuriosita, ho detto mi piacerebbe una cosa del genere perché comunque il discorso dell'idratazione è una cosa che io purtroppo a livello personale non curo tantissimo. Dovete fare solo una dose e devo dire che è un prodotto che mi piace tantissimo perché il fatto che dice di essere questo booster che vi aiuta a ridratare la pelle, quindi tutta l'acqua che voi perdete nell'arco del tempo, questo prodotto ve la fa riacquistare. Riacquistare. Riacquisire. Fammo riacquisire. E devo dire che è così, mi piace tantissimo perché è qualcosa di fresco, è piacevole la mattina da mettere. Per ora mi sta dando degli ottimi risultati, come vedete la mia pelle comunque è compatta, non ha problemi, ha quei normali problemi da parte grassa, però io da poco ho scoperto di soffrire di ovaia pollicistica. Dopo questa, sinceramente sono il tipo che se riesco a curare in un modo evito, resisto. Io contate che in queste condizioni, cosa che prima non facevo, in queste condizioni io esco pure, perché questo è il livello in cui io dico me ne frego e sto bene così. Questo anche perché io ho iniziato a utilizzare lui. Cioè, gente, fate un fermo immagine, prendete questo prodotto, è una manna dal cielo. Io direi di iniziare a truccarsi perché so già 9 minuti che io parlo così a vambere, non so manco se me sto annoiando o no, però, cioè, scusate, però mi mancava fare questi video dove parlavamo di prodotti. Come dicevo, oggi devo uscire, vado ad applicare questo qui, il correttore Instant Anti-Age di Maybelline, perché... Io sono soddisfattissima, gente. Il mio correttore di MAC è praticamente finito. Anzi, scusate, vado ad applicare lui, vado ad applicare il mio correttore Pro Long. Vedete, vedete, già faccio fatica a farlo uscire. Vado ad applicarlo solo dove mi interessa. Allora, io ho girato tutto perché alla fine mi sono resa conto che non vedevate un granché, quindi perdonatemi se all'inizio ve l'ho fatto in quel modo, però adesso mi vedete meglio. Allora, io adoro questo correttore di MAC. Quando mi sono affidata a una vecchia recensione di Lolla, ho detto lo voglio provare e infatti da allora me ne sono innamorata, anche perché, gente, costa 20 euro. Però c'avete 9 ml di prodotto, quindi è una bomba. Il consiglio che vi do, ed è lo stesso che mi ha dato il Makeup Artist di MAC, quando l'avete finito di applicare, aspettate 1-5 minuti prima di fissare il tutto con la cipria o col fondonita, perché se no il correttore non fa presa, anzi rimane scivoloso e poi diventa una pappa. Parliamo di un po' di cosette, gente. Da quando ho fatto questo rinnovo della stanza, posso avere appurato che io sono un botto dei trucchi, gente. Per l'utilizzo poi che faccio io, che oramai io mi sono affidata anche a tanti trucchi per essere un'unica persona, però ammetto che ne ho tanti. Ma è più forte di me, io comunque mi interessa ancora di trucchi, io so così, gente. Cioè, è più forte di me. Io ho tante passioni per mia fortuna, nonché sfortuna. Sì, sono in fissa con qualcosa, ma mi rendo conto che dico Ma mi serve? No, non mi serve. Allora lascio perdere. Però, come voi, anche io vedo quello che esce. Come sapete, è uscita Uta Beauty. Mi rendo conto che, ad esempio, le due palette grandi che sono uscite è inutile che io le acquisti perché io ho già quei colori, se voglio andare a cercare. Però sono uscite le palettine piccole e quelle mi interessano tanto. Fino a che non ho visto di persona quella con i toni del borgogna. Devo dire che mi interessa. Quella è quella che mi intriga di più. Anche perché... Che bella, adesso ce l'ho tutta a portata di mano. Se vi ricordate... Ah, dove stai? Mi rubi. Se vi ricordate, io ho questa. Questa vecchia palette di Kiko. Ho solo questo di colore borgogna, che è quello proprio intenso, che mi piace. Mentre quella ne racchiudo un bel po'. Quindi pensavo quasi quasi, mi compro quella. Me la regalo. E sono in fissa con le palette di Anastasia Beverly Hills. Lei. Non mi viene il nome. Però quella mi piace tantissimo. Come uguale, ovviamente, sono in fissa con Fenty Beauty. La collezione di Rihanna. Cioè, gente, Rihanna si è uscita con una linea di make-up. Quello che più mi blocca, mi frena, è proprio il fatto che mi sono resa conto. Adesso che ho sistemato qui tutta la mia parte trucco, che, devo ammettere, ne ho tanti di trucchi. Non mi va di comprare cose che poi metto là, giusto per dire, ce l'ho, ma poi non la utilizzo. Come avete visto, quando stavo lì a casa nuova, ho preso delle nuove cose di Mac, ma io da quel giorno non ho più comprato nulla. Per mia fortuna mi sono arrivati qualche pensierino, perché c'è stato di mezzo il mio compleanno. Come sapete, come ogni ottobre e come ogni aprile, io me ne vado a Romics perché mi piace. Da che ero partita da una borsa di Michael Kors, a che sono tornata con due action figure e tre Funko Pop. Quindi sapete che sono una drogata di quel mondo. Proprio per tornare in tema sul fatto che io comunque so tanto tempo che non spendo, gente, non ho resistito e ho voluto approfittare del Black Friday. E ho preso lui. Animali fantastici. Devo vedere Harry Potter. Sì, lo so, gente. Lo so. Non si può non aver visto Harry Potter. Io non ho mai visto Harry Potter. Mi sono sempre rifiutata. E poi, ho preso lei! Ho ripreso il cofanetto di Underworld. Se vi ricordate, io già ce l'avevo in DVD, però c'erano solo quattro film. Adesso hanno fatto uscire il quinto. E quindi mi sono presa il cofanetto in Blu-ray con tutti e cinque film. Soddisfatta? Soddisfatta perché lo davano a 20 euro su Amazon. Questo qua lo davano per 10 euro. Quindi era perfetto e contata in steelbook. È metallico. Allora, queste sono le sovracchiglia. In quest'arco di tempo che avete visto che sono stata là a casa, io comunque avevo da fare perché dovevo andare per forza ai corsi d'inglese perché non avendo internet mi serviva una rete internet per seguire i corsi. Poi dovevo girare perché c'era da sistemare qui a casa, perché magari c'era da ordinare dei pezzi, oppure dovevamo fare dei cambiamenti, dovevamo comunque seguire i lavori e più dicendo. mi sarò truccata bene, giusto per qualche colloquio che ho sostenuto. Sì, anche lì tema ovviamente tabù perché tanto gente c'è poco da dire, poco da fa. Tanti mi dicono non mollare, sì, positiva. Raga, ma io che devo fare? La mia fortuna è che io sto in una famiglia solida che comunque non abbiamo problemi fino a un certo punto e che posso tranquillamente appoggiarmi a loro. Però il fattore che lo Stato pretende che certa gente debba continuare a cercare lavoro e non arrendersi e dico pretendere perché delle volte sembrano delle prese in giro quando dicono manda, fai, fai quello perché c'è ancora posto per te e quando mi dici che nelle statistiche inizi a contare dai 15 anni in su che i 15 anni hanno ancora l'obbligo dello studio cioè è quello che a me mi fa arrabbiare perché se tu vuoi una persona giovane ma poi ti lamenti perché non lavora e ti arriva una persona di 31 anni che vuole un lavoro perché ha bisogno anche di un lavoro le cose non cuoiono, c'è qualcosa che non va. In più, per mio interesse, logicamente sto portando avanti una cosa che fino ad allora pensavo di non essere in grado perché io, gente, pensavo di non essere in grado di imparare l'inglese. Come avete potuto vedere da Instagram io ne sono segnata al Wall Street English e devo dire che è una scuola che mi ha aiutato tantissimo e ora io riesco a capirlo cioè io per certe cose sono molto contenta molto soddisfatta di questo i risultati li vedo però è pure vero che a livello lavorativo questo io lo faccio ma a livello lavorativo poi non si guaglia ho sostenuto un colloquio presso una società che aveva a che fare con clienti Apple io ero stata chiamata peraltro e soprattutto per un call center di servizio vado bene sul computer vado bene sui testi vado bene sulle modalità di comportamento che vanno sostenute sul rapporto cliente assistente quando fino a che non si arriva al test psicologico vengo esclusa quindi io non passo il colloquio solo per quello io capisco che questi test psicologici vengono fatti per un determinato motivo ma a me mi è capitato di suggerire a una ragazza come si utilizza un Mac chi ci faceva la verifica vedeva che io suggerivo a questa ragazza mi spiegate perché questa passa e io no? questo io non riesco a capire solo perché lei magari è riuscita a rispondere che il clavicembalo e il pianoforte si distinguono da un pittore se vi serve gente che deve superare questi generi di test e non sanno fare un H invece del compito che dovrebbero fare perché mi chiami? per certe cose rimango basita poi ho detto vabbè senti come si dice un lavoro si troverà io lo so gente lo so che non bisogna schifare qualsiasi lavoro per poi chi dice ma ora ti pare che vado a fare quello chi dice queste cose è pure una persona che magari ha studiato si è fatto un mazzo tanto e non gli viene magari data o l'occasione di dimostrare quello che sta a fare oppure è una persona che purtroppo non riesce a fare quello che desidera e fatevelo dire da una che magari ha studiato per fare grafica e si è ritrovata dentro un supermercato a lavorare come cassiera, scaffalista, magazziniere perché mi facciano fare anche quella e l'unica volta che c'era da pulire qualcosa andavo sempre io dovevo pulire sempre io sempre però gente è così eh c'è poco da fare e poco da dire mi metto la matita finiamo questi discorsi perché sennò entro in un giro di polemiche che non finisce più anche perché gente ce ne avrei da raccontarvi cioè io in questo mese e mezzo ho sostenuto dei colloqui allucinanti di cui uno tramite la Yankee Candle che è stato veramente quella è stata la peggiore non me la sarei mai aspettata devo dire la verità perché ho fatto il colloquio e vi assicuro questa è stata come un pezzo di burro dolce carina parlato eh a un certo punto mi ha tenuto un discorso poi io purtroppo ve l'ho detto gente io sono in Genova io sono in Genova sono stata una cogliona che nel momento in cui mi ha detto guarda io te lo dico ti offriamo un part time ti mettiamo per bene in regola tutto quanto dovrai lavorare sette giorni su sette un giorno di riposo e già lì qualcosa non mi tornava ho detto come un part time e devo lavorare sette giorni su sette di cui un giorno di riposo c'è qualcosa che non va e poi mi raccomando se ti chiamo tu devi correre anche se è il tuo giorno di riposo tu stacchi prendi e vieni a lavorare a un certo punto mi fa guarda allora concludiamo perché per me vai bene dimmi solo una cosa a livello familiare come stai messa perché noi siamo persone umane siamo tutte persone è giusto ognuno chiunque ha i propri problemi quindi eh io come una cogliona io ho detto di mio padre per essere trasparente perché ho detto questa è carena mi sta spiegando che hanno bisogno di una commessa è tutto quanto ma rigirato ha saputo il giorno dopo mi chiama no guarda non mi serve più fredda come un ghiaccio però dall'altra forse meglio torniamo sempre lì gente torniamo sempre lì non si vive per lavorare se vive si lavora ma si vive per cambiare discorso perché gente basta magari vi faccio due palle così della smashbox sapete che è la palettina questa qui che è troppo carina sono andata a mettere il grigio e lo sono andata a mettere vedete qui nella piega giusto così io gente spero di trovare un lavoro spero veramente come sogno mi è rimasto questo io mi rendo conto che per fattori miei di vita passata ho affidato tutta la mia vita a una persona che purtroppo non mi ha dato quello che io speravo mi sono resa conto di come avevo dato pienamente la mia vita in mano a questa persona e questa persona praticamente così ha fatto allora io ho fatto un po' di contouring e gente voglio condividere con voi una cosa vi ricordate questa vecchia terra di Kiko? ecco io l'avevo comprata non l'avevo mai mai usata adesso l'ho provata per la prima volta perché mi sono talmente appassionata al contouring perché mi piace fare con il contouring vedete mi dà un aspetto migliore e ovviamente come illuminante metto soft gentle di MAC perché guardate l'ho scavata cioè guardate che dislivello con l'illuminante che io non utilizzo perché quello purtroppo non mi dura cioè la sto amando questa terra la sto amando tantissimo quindi piace tanto fare questo effetto di contouring così ok vado a mettere il mascara sapete che utilizzo lui sempre il push angel di Maybelline perché mi piace troppo quindi anche se però mi inizia a fare grumi quindi mi sa che sono sto arrivando ok sulle labbra vado a mettere lui sì non sono delle tinte ripeto però mi piacciono a livello di rossetto liquido mi piace ecco qui gente finito mi piace tantissimo poi mi piacciono molto questi look adesso un po' drummy però naturali nella rima inferiore non ho messo niente perché purtroppo non capisco come mai in questi giorni inizio a avere dei problemi agli occhi bene gente io spero questo video sì scusate il portello però è così io spero che questo video vi sia piaciuto come rientro un piccolo get ready vlog così piccolo piccolo con un po' di novità un po' chiacchiericcio e cose varie detto questo gente io vi saluto spero che il look vi sia piaciuto per qualsiasi cosa chiedetemi e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao